Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un prossimo video qua e rossa sangue, quest'oggi vi farò vedere un video che non ha assolutissimamente senso come tutti gli altri miei video che appena che finisco di parlare vi faccio, anzi adesso vi farò vedere la clip e vedete la clip e poi parlo ed eccomi qua ragazzi, avete visto la clip? è bene, l'avete visto abbastanza ragazzi io quel momento, quel momento, io quell'esatto momento era successo il casino perché era caduta di sotto la palla cioè praticamente questo video è quando compro le cose del villain ma poi le butto fuori dalle scale dritto dritto cioè ragazzi, c'è assurdo ragazzi cioè io ho detto vabbè dai faccio due palleggi, tanto li prendo con le mani neanche per fare casino quindi faccio boom, boom, boom via, vaffinella, dietro ho detto polpo dio questo video non ha assolutissimamente senso ma iscrivetevi, lasciate like perché questo video di 30 secondi finisce qui e niente, bello?